In questo tutorial vediamo degli esempi di condizioni su potenze reali con esponenti reali. Indica quali valori possono assumere le variabili affinché le seguenti espressioni rappresentino potenze reali con esponenti reali. Partiamo da questo primo esempio e dobbiamo fissare l'attenzione sulla base A più 4. Dobbiamo garantirci che la base A più 4 risulti una quantità non negativa e allora come condizione dobbiamo porre che A più 4 risulti essere maggiore o uguale a 0. Ho una disequazione che vado a risolvere. Porto il 4 al secondo membro ed ottengo A maggiore o uguale di meno 4. Questa risulta essere la condizione affinché A più 4 alla x rappresenti una potenza reale con esponente reale. Vediamo questo secondo esempio. 1 fratto A elevato alla radice di 3. Dobbiamo fissare l'attenzione sulla base e dobbiamo garantirci che questa quantità risulti essere non negativa e allora devo porre come condizione che 1 su A sia una quantità maggiore o uguale a 0. Ho una disequazione fratta che vado a risolvere. Devo porre il numeratore 1 maggiore o uguale a 0 e il denominatore A maggiore di 0. Ora rappresento graficamente il segno del numeratore e del denominatore. 1 risulta essere sempre una quantità maggiore di 0 e allora tirerò una linea positiva. Per quanto riguarda il denominatore abbiamo A maggiore di 0. Individuo 0. Per valori a destra di 0 il denominatore risulta essere positivo. Prima risulta essere negativo. Eseguo il prodotto dei segni. Più per meno ed ottengo meno, più per più ed ottengo più. Lo scopo è andare a vedere quando 1 su A è una quantità maggiore o uguale a 0. Il maggiore di 0 lo vedo in questo intervallo, ossia quando A risulta essere maggiore di 0. E allora A maggiore di 0 risulta essere la condizione affinché questa espressione risulti una potenza reale con esponente reale. Vediamo questi altri due esempi e partiamo da questo primo esercizio. 2A meno A alla seconda tutto quanto alla radice di 2. La condizione la dobbiamo impostare sulla base, ossia 2A meno A alla seconda. In particolare dobbiamo garantirci che la base 2A meno A alla seconda sia una quantità non negativa, ossia maggiore o uguale a 0. Ho una disequazione di secondo grado che vado a risolvere. Come prima cosa moltiplico tutte e due i membri per meno 1 ottenendo A alla seconda meno 2A minore uguale 0. Avendo una disequazione di secondo grado passa all'equazione associata alla seconda meno 2A uguale 0. Mette in evidenza una A che moltiplica A meno 2 uguale 0. Ponendo ora il primo fattore uguale a 0 e il secondo fattore uguale a 0 otteniamo due soluzioni A uguale 0 ed A uguale 2. Allora vuol dire che la parabola associata a questa disequazione taglierà l'asse delle x in due valori in 0 e in 2. Disegno la parabola, individuo 0 e individuo 2. Per valori prima di 0 e per valori maggiori di 2 la parabola risulta essere positiva, mentre per valori tra 0 e 2 la parabola risulta essere negativa. In corrispondenza di 0 e di 2 la parabola taglia l'asse delle x e metterò 1 uguale a 0 uguale 0. Vado ora a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità risulta essere minore uguale a 0. Il minore uguale a 0 lo vedo nell'intervallo tra 0 e 2. E allora devo scrivere a compreso uguale tra 0 e 2. E questa è la condizione affinché questa espressione risulti una potenza reale con esponente reale. Vediamo quest'altro esempio. Abbiamo meno 2a elevato alla meno radice di 3. Osservo che l'esponente risulta essere negativo e allora riscrivo questa potenza con esponente positivo e allora dovrò scrivere il reciproco di meno 2a, ossia meno 1 fratto 2a, tutto quanto alla radice di 3. Ora che ho l'esponente positivo impongo la condizione sulla base. Mi devo garantire che questa quantità sia non negativa e quindi devo scrivere meno 1 fratto 2a maggiore uguale a 0. Ho una disequazione che vado a risolvere e pongo il numeratore meno 1 maggiore uguale a 0 e il denominatore 2a maggiore di 0. In questa disequazione divido tutte e due membri per 2 e semplifico il coefficiente di a ottenendo a maggiore di 0. Vado ora a rappresentare il segno del numeratore e del denominatore. Meno 1 non è mai una quantità maggiore o uguale a 0. Risulta essere sempre una quantità negativa. Per quanto riguarda il denominatore abbiamo a maggiore di 0. Individuiamo 0, a destra di 0 abbiamo la positività, prima la negatività. Eseguo ora il prodotto dei segni. Meno per meno ottengo più e poi meno per più ottengo meno. Ricordo qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è una quantità maggiore o uguale a 0. Il maggiore di 0 lo vedo in questo intervallo, ossia quando a risulta essere minore di 0. Vediamo questi altri esempi e partiamo da 1 meno a fratto a elevato alla radice di 2. Fissiamo la tensione sulla base, ossia 1 meno a fratto a e dobbiamo imporre che questa quantità sia non negativa e quindi scrivo maggiore o uguale a 0. Vado ora a risolvere questa disequazione imponendo il numeratore 1 meno a maggiore o uguale a 0 e il denominatore a maggiore a maggiore di 0. Risolvo questa disequazione portando 1 al secondo membro ed abbiamo meno a maggiore o uguale di meno 1. Moltiplico tutte e due membri per meno 1 ed ottengo a minore o uguale 1. Rappresento graficamente il segno del numeratore e del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore devi individuare il valore 1. Metto un pallino su 1 perché qui vi è il simbolo di uguale e sappiamo che il numeratore è positivo per valori minori di 1. Dopo risulta essere negativo. Per quanto riguarda il denominatore individuiamo 0 e sappiamo che il denominatore è positivo per valori a destra di 0 mentre prima è negativo. eseguo il prodotto dei segni. Più per meno ed ottengo meno. Più per più ed ottengo più. Meno per più ed ottengo meno. Vado ora a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore o uguale a 0. Il maggiore di 0 lo vedo tra 0 e 1 e l'uguale a 0 lo vedo in corrispondenza di 1. E allora come soluzione avrò a compresa tra 0 e 1 con 1 incluso. Metto l'uguale ad 1 perché qui vi è il pallino su 1. Vediamo quest'altro esempio alla seconda meno 4a più 4 elevato alla meno radice di 2. Osservo che l'esponente risulta essere negativo. E allora trasformo questa espressione con esponente positivo scrivendo 1 fratto alla seconda meno 4a più 4 tutto quanto elevato alla radice di 2. Osservo ora che alla seconda meno 4a più 4 è un quadrato di binomio che può essere riscritto come 1 fratto a meno 2 tutto quanto elevato alla radice di 2. Impongo ora la condizione sulla base, ossia che 1 fratto a meno 2 alla seconda sia una quantità maggiore o uguale a 0. E allora impongo il numeratore 1 maggiore o uguale a 0 e il denominatore a meno 2 alla seconda maggiore di 0. Il numeratore è già risolto. Per quanto riguarda il denominatore ho una disequazione di secondo grado. Passa l'equazione associata a meno 2 alla seconda uguale a 0. Posso estrarre la radice quadrata di tutte e due i membri e semplificare la radice con la potenza 2. Porto il meno 2 a secondo membro ed ottengo a uguale 2. Questo vuol dire che la parabola associata a questa disequazione risulta essere sempre maggiore di 0 tranne in 2 dove in 2 è uguale a 0. Ora che conosco il segno di questo denominatore vado a calcolare il prodotto dei segni tra numeratore e denominatore. Per quanto riguarda il numeratore 1 maggiore o uguale a 0 è sempre vero e quindi tiro una linea continua per indicare che il numeratore è sempre positivo. Il denominatore risulta essere sempre positivo tranne in 2. In 2 vale 0 e allora vuol dire che devo individuare 2. Prima di 2 il denominatore è positivo, dopo di 2 il denominatore è positivo e abbiamo detto che in 2 è pari a 0. Ma visto che a meno 2 è a denominatore questa disequazione per a uguale 2 non ha senso perché avremmo 1 diviso 0 e quindi metto una x sul valore 2. Eseguo il prodotto dei segni ed ottengo più e più. Vedo ora qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore o uguale a 0. Dallo studio del segno si deduce che questa quantità è sempre positiva tranne in 2 dove in 2 non esiste e quindi posso scrivere a diverso da 2. E questa è la condizione per cui questa quantità rappresenti una potenza reale con esponente reale. Vediamo questi ultimi due esempi. a elevato alla radice di 2 più 1. Imponiamo la condizione sulla base e quindi dobbiamo scrivere che a deve essere una quantità non negativa e quindi impongo a maggiore o uguale a 0. E questa risulta essere la condizione affinché questa espressione rappresenti una potenza reale con esponente reale. Vediamo questo ultimo esempio. a alla seconda più 1 alla x. Fissiamo l'attenzione sulla base a alla seconda più 1 e poniamo questa quantità maggiore uguale 0. Ho una disequazione di secondo grado che va da risolvere. Passa l'equazione associata alla seconda più 1 uguale 0. Porto 1 a secondo membro alla seconda uguale meno 1 e mi rendo conto che ottengo un'equazione impossibile. E allora vuol dire che la parabola associata a questa disequazione non tocca mai l'asse delle x. La parabola risulta essere sempre positiva. Vado ora a vedere qual è la domanda quando questa quantità è maggiore o uguale a 0. Osservo che la positività la vedo sempre, ossia a alla seconda più 1 risulta essere sempre una quantità positiva e quindi la disequazione viene sempre verificata e posso scrivere per ogni a appartenente ad r. Questo vuol dire che per qualunque valore di a reale questa quantità rappresenta una potenza reale con esponente reale. E con questo termino il tutorial su esempi di condizioni su potenze reali con esponenti reali.